Il premio Giorgio Lago è al decennale, mentre il premio Unioris è al terzo anno. Quest'anno devo dire che è cresciuto moltissimo. Devo dire ai giovani che si approcciano a questa professione che fondamentalmente l'approccio di mio padre era un approccio molto poco snob, cosa che invece noti molti giornalisti. Lui anche da direttore entrava nei bar, andava al mercato, raccoglieva notizie di qualsiasi tipo, anche le più sciocche e chiamava immediatamente il giornale. Lui ha cominciato con lo sport e non si vergognava assolutamente di raccontare i suoi inizi, umili anche, e questo approccio nello sport con la massa, la folla, il mercato, lui si teneva a sottolineare anche a parlare il dialetto con la gente. Penso che gli abbia dato forse qualcosa in più per affrontare. Allora, Veronica Viena è la prima classificata del titolino di Padova, Anna Zillo del liceo Giorgione di Castelfranco e la terza è Asia Cervi, il chef del Canova di Treviso. Grazie mille! Grazie per la visione!